Allora buonasera a tutti, si è appena conclusa la partita di tra Conad Reggio Emilia e Mondo V vinta da Conad Alta e Ibrec. Abbiamo con noi Simone Scoppelliti al quale subito facciamo una domanda. Simone, quale fondamentale ha fatto la differenza secondo te? Sì, è stata una partita abbastanza difficile e molto combattuta, soprattutto perché siamo andati avanti sopra di due set e poi speravamo di chiuderla al terzo, invece abbiamo subito un po' il nostro gioco espresso ad alti e bassi, però siamo stati molto bravi a riprenderla al quinto set, al tie break e riuscire a portare a casa due punti che sono sicuramente importanti per la classifica. Il nostro fondamentale, nonostante l'andamento un po' ad alti e bassi, diciamo che è stato soprattutto l'apporto della battuta e del muro difesa che sono andati molto bene e siamo riusciti a mettere comunque sempre sotto gli avversari portando a casa molti break. Simone, arrivare al tie break al Palabigi, quanta tensione c'era in quest'ultimo set? Sì, è stata una partita molto tesa soprattutto perché eravamo in vantaggio di due, poi ci hanno fatto rimontare quando pensi che la partita ormai sia andata, invece riuscire a tirare ancora qualcosa vuol dire che ha un valore ancora in più, ha un valore ancora aggiunto. Siamo anche riusciti a portare a casa una vittoria in questo palazzetto, nel Palabigi, una vittoria che mancava da tanto e siamo molto contenti per questo. Abbiamo qui con noi Nicola Sesto, ciao Nicola. Quanto ha influito l'allenamento durante questa settimana e soprattutto quanto ha influito la vittoria anche della scorsa partita per ottenere un risultato importante in casa al Palabigi? Beh, sicuramente due vittorie consecutivi veramente non succedevano qua a Reggio Emilia da forse due anni dalla stagione in cui abbiamo fatto i playoff, quindi sicuramente siamo molto contenti. L'allenamento influisce perché comunque quello che fai in settimana poi cerchi di riportarlo in partita, però l'allenamento non basta a volte perché poi in partita ci sono diverse variabili, tra cui quella dell'approccio mentale alla partita, quella dello stare sempre lì, non mollare mai, l'abnegazione, forse questa qui è una cosa che non si allena ma che dovremmo tirare fuori. Qual è stata, secondo il tuo punto di vista, la svolta della partita? Guarda, per i primi 27 siamo riusciti abbastanza bene a gestire la partita, insomma, in tutti i fondamentali, poi c'è stato un calo che bisogna vedere se è un calo fisiologico, se è un calo psicologico, non lo so, abbiamo un po' subito il rientrare di Mondovì. Era una partita che comunque volevamo vincere e che dovevamo vincere soprattutto in casa perché non si vinceva da più di un anno e quindi una vittoria fortemente desiderata e fortemente voluta, quindi bene, però sicuramente ci sono diversi spunti che possiamo prendere per migliorarci.